La presenza delle donne nei consigli di amministrazione, misurazioni quali quantitative è il titolo del convegno organizzato a Palazzo Lascaris dalla consulta delle elette. L'obiettivo nell'ambito del progetto Il Rosa e il Grigio, promosso dal Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è quello di incrementare la presenza femminile ai vertici aziendali. In che cosa consiste questo progetto intitolato Il Rosa e il Grigio? Il progetto Il Rosa e il Grigio è un progetto che mira ad incrementare la presenza di talenti femminili all'interno dei ruoli di leadership, ruoli decisionali, grazie allo scambio intergenerazionale quindi attraverso le esperienze di manager più grandi verso le nuove leve. E questo è molto importante perché abbiamo i primi risultati positivi della legge 120-2011, la legge sulle quote, che dopo tre anni vede salire la presenza delle donne all'interno dei CDA, delle società pubbliche al 20%.